Quest'anno i giovani della parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù organizzano il presepe vivente con scene dal vivo dei vari mestieri e attività artigianali del tempo che fu. Tutto ciò attorno alla chiesa parrocchiale Santa Teresa del Bambino Gesù in Rione Taverna delle Rose con il parroco Don Fernando Lupo. Le rappresentazioni si svolgeranno il 29 e il 30 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019 dalle ore 17 alle ore 21. Grazie a tutti.